Raffaele un'altra partita lunghissima tantissime emozioni un'altra grande felicità per Verona. Sì c'è la nostra prima partita in casa una squadra che sta lavorando davvero tantissimo molto giovane che ha dimostrato davvero di avere una testa forte stasera. Trento è una delle migliori squadre al mondo e noi abbiamo saputo supportare la loro pressione la loro forza e quindi è una vittoria importantissima in casa adesso dobbiamo già puntare sulla prossima pensare alla prossima però è bellissimo vincere la prima in casa quindi complimenti a tutti i nostri tifosi nostra famiglia tutti quelli che sono insieme con noi qui oggi. Una vittoria che vi dà anche tanta fiducia per il futuro non sappiamo dove arriverà questa squadra potrebbe davvero arrivare lontano? È quello che lavoriamo ogni giorno per quello cioè stiamo facendo davvero tantissimo lavorando lavorando davvero tanto per poter buttare fuori quello tutto che abbiamo. Come vi ho detto è una squadra molto giovane e che sta cercando il posto nella pallavolo mondiale diciamo così si diverte tantissimo giocando insieme quindi per me è un gran piacere essere qui e fare queste strade insieme a loro. Adesso Perugia voi non avete paura di nessuno? Vi divertite con tutti quindi vi divertirete anche a Perugia? Sicuramente noi non abbiamo paura di nessuno però rispettiamo tutti quella è la cosa più importante è una squadra che rispetta a tutti però che vuole vincere tutto quello che possiamo come abbiamo detto ci divertiamo vogliamo imparare e migliorare ogni giorno quindi ci aspetta una partita difficilissima veramente molto dura però noi andiamo a giocare e andiamo a lottare per ogni punto. Grazie.